Buonasera a Santa Teresa, siamo l'associazione Sipuffare che quest'anno dopo un lungo periodo di riposo torna più carica che mai, presentando uno dei temi più amati dal momento, Mercoledì Adalus modello di ragazza alternative fuori dagli esteri, orgogliosa della propria unicità e del proprio modo di essere Mercoledì venerdì Adalus, uno dei personaggi della conoscitissima serie Famiglia Adalus è l'unica componente intelligente che mette i pilli in chi l'affronta, sempre senza messa a dire la sua espressione serie Cuba ed è così che l'associazione Sipuffare che torna per festeggiare